Lei in aula ha fortemente attaccato il centrodestra e il governo sul MES. Meloni mi pare un forte imbarazzo quando parla del MES perché non c'è un motivo per spiegare perché non dovremmo ratificare, che non vuol dire accedere. Nessuno sta pensando di accedere al MES anche perché quando devi accedere al MES vuol dire che stai per fallire. O comunque è un grosso problema e per fortuna non siamo in quella situazione. Ma ratificare la riforma del MES significa tener pronto un defibrillatore a bordo campo in caso di arresto cardiaco. E se non lo ratifichiamo, siccome gli altri 19 su 20 paesi dell'Unione Monetaria Europea l'hanno già ratificato, se noi non lo facciamo lo blocchiamo per tutti. E nessuno risponde a questa domanda. Ma che male c'è nel tenere un defibrillatore a bordo campo? E non puoi rispondere prima di mettere il defibrillatore, devo rifare gli spogliatoi o devo cambiare metodo di gioco. Perché queste sono cose indipendenti dal fatto di avere una cosa che ti salva la vita se hai un arresto cardiaco. Il MES è uno strumento che serve a intervenire quando ci sono grossi problemi di finanza pubblica o bancari. Perché non dobbiamo tenercelo lì? In caso serva è una domanda alla quale neanche il governo sa rispondere. La verità, sapete qual è? È che per dieci anni i partiti attualmente al governo hanno dipinto il MES come la strega cattiva di Biancaneve. C'è sempre bisogno di un cattivo per chi non ha una propria idea vera. E adesso non sanno come tornare indietro. Ma quando si sta al governo non si sta per raccontare favole di Biancaneve, si sta per affrontare la realtà. E su questo la Meloni è chi sta al governo con lei. Qualche problema ce l'ha. Dipende anche dal fatto di pagare una cambiale alla Lega, a Salvini. Ma anche Fratelli Italia per dieci anni è andato in giro a dire che era la spectre di James Bond. Anche il MES era la spectre. Quindi si tratta di tornare indietro da una narrazione populista. L'hanno fatto su tante cose. Sul debito, sulle trivelle, sul POS, sulle accise, sull'Europa. Si vede che non lo vogliono fare anche sul MES. Però ripeto, stai bloccando la ratifica per tutta l'Europa. Ed è una cosa seria quando tu blocchi una cosa del genere in Europa. La credibilità internazionale è una cosa seria. Non si può giocare su queste cose. Quindi noi abbiamo presentato una proposta di legge di ratifica. Perché se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna. La settimana prossima inizierà il suo iter in commissione esteri e il governo dovrà dire sì o no. E lì vedremo. Insomma, lì i giochi, le chiacchiere staranno a zero e vediamo i fatti. Sui temi dell'immigrazione l'Italia sembra sempre più distante dall'Europa. Sono armi di distrazione di massa quelle del governo oppure c'è un problema di gestione? No, il problema dell'immigrazione è un problema vero, ma è un problema di portata immensa. Il problema è stato in Italia averlo gestito come tema di campagna elettorale negli ultimi dieci anni, anche qui, ma il tema delle migrazioni. Ora e nei prossimi decenni è un tema che andrebbe affrontato con tutt'altra postura rispetto a oddio, oddio, ci invadono blocco navale o le scemenze che abbiamo sentito in questi anni. Quindi il problema c'è. Il modo per iniziare a risolverlo di nuovo è un atteggiamento costruttivo con l'Europa, perché a impedire i ricollocamenti sono stati i paesi del blocco di Vicegrad che erano i riferimenti internazionali della Meloni e di Salvini. Vedete il cortocircuito pazzesco di questo discorso qui. Quindi occorre una strategia di integrazione vera, perché noi con la demografia che abbiamo, la verità è che se non abbiamo immigrati noi andiamo a fondo come paese. A questo ci siamo ridotti. E' chiaro che vogliamo gli immigrati di qualità o comunque le persone che arrivano devono essere rese di qualità con la formazione, con l'istruzione, con l'accoglienza, con l'integrazione nel pieno rispetto delle regole. Al contempo deve essere chiaro che chiunque arriva nei nostri mari arrivi in Europa, non in Italia. Quindi c'è un ragionamento europeo per distribuire i migranti, ma per distribuire i migranti servono gli accordi a livello europeo. Non serve litigare con Macron e non serve appoggiare quei paesi come il blocco di Visegrad, Polonia, Ungheria, eccetera, che hanno sempre respinto un'ipotesi di ricollocazione. Hanno detto dei migranti se ne fa carico l'Italia e basta. Non è questo di cui abbiamo bisogno. E faceva giustamente riferimento alla questione demografica. L'Istat ha segnalato meno tre di nascite nella prima fase del 2022. Da che dipende? Mancano politiche per la famiglia? È un problema sociologico? Come se lo spiega? Sicuramente le politiche per la famiglia sono un punto debole che è stato solo parzialmente risolto con l'assegno unico. L'assegno unico universale è una battaglia storica di Italia Viva, di Elena Bonetti. Ha fatto una rivoluzione. Questa è una citazione del presidente Draghi, la definita è una rivoluzione. Cioè abolire tutti i micro strumenti e crearne uno per tutti, stabile, forte, è stata una rivoluzione. Sicuramente non basta. Sicuramente serve una rete di servizi per l'infanzia, una rete per l'occupazione femminile, per far sì che una donna possa essere mamma e lavoratrice allo stesso tempo. C'è un sacco di cose che la politica può fare. Dopodiché è anche un problema di prospettiva. L'Italia è un paese che non cresce da molto tempo. In un paese che non cresce non ci sono prospettive. Un paese che non ha prospettive non ha voglia di fare figli. Quindi due tipi di problemi. uno di politiche pubbliche e di supporto ai servizi dell'infanzia. Ecco perché noi non possiamo continuare a mandare in pensione la gente prima. Perché abbiamo bisogno di soldi per gli asili nido, per il welfare familiare, per le giovani coppie. E l'altro è un problema di dare speranza a un paese che speranza sembra non averne più.